ciao ragazzi calendario royal beauty smalti 15 dicembre abbiamo questo smalto qua, mi pare che sia un tortora, adesso lo vediamo bene c'è un grigio marrone una grandissima schifezza, guardate pure che grandissima schifezza, quindi questo qua dobbiamo per forza ripassare una seconda volta perché il colore fa veramente schifo ecco adesso sembra che non ci sono più le striature però il colore non mi piace proprio per niente e vabbè non si può avere sempre bei colori e con questo è tutto, ciao a domani